È pronto. Dimmi, che piatto è? Grazie di avermelo chiesto. È una ciotola di tempura con uova come ingrediente principale. Non è lo stesso piatto che assaggiasti la volta scorsa. Non riuscii a farti dire che il mio piatto fosse delizioso. In segreto, quindi, per un po' ho pensato a come poterlo migliorare. E questo l'ho chiamato. Ex Benedict Over Rice Fit For Aquin Soma Style. Ex Benedict. Buon appetito. Come può essere così buono? La stella del piatto. La tempura di uova croccante che si scioglie in bocca. Deve aver fritto le uova dopo averle fatte in camicia. L'albume non potrebbe essere più morbido. Il tuorlo è vellutato al punto da essere quasi crudo. Erina, proprio ora ti sei scordata completamente. La persona per cui tu stia cucinando. Onestamente tutto questo piangersi addosso non è nel tuo stile. Non preoccuparti delle cose inutili sia te stessa. Per chi vorresti cucinare più di ogni altra al mondo. Sì, ha ragione. Voglio solo sentire mia madre dire adoro mangiare i tuoi piatti. Solo questo. Mi sei mancata così tanto. Disgustoso. È disgustoso. È disgustoso comparato a quello che sto per preparare io. Comunque, non ho mai pianificato o pensato di farmi battere da te adesso o in futuro, idiota. E io non sto neanche pensando di arrendermi. Almeno non prima di averti fatto dire delizioso. E io non sto neanche pensando di arrendermi.